Questa domenica 25 ottobre è andata in scena l'ottava giornata del campionato di Serie D, la sesta, per le restanti categorie. Nella massima serie dilettantistica, il Breno, reduce dalla sconfitta contro il Brusaporto, non va oltre lo 0-0 in casa dell'Olginatese. Sorride invece il Desenzano Calvina, che asfalta con un poker il malcapitato Legnano, mentre il Franciacorta si deve accontentare dell'1-1 esterno contro il Caravaggio. In eccellenza, successo in extremis per il Lumezzane, che batte il Castiglione solamente al novantesimo, grazie al rigore trasformato da Caracciolo. Scivolone per il Rovato, capò per 3-0 in casa del Forza e Costanza, Pariggio per 1-1 tra Darfo Guario e Governolese. Credo che la partita di oggi dimostra quanto è bello questo sport, quanto è bello il calcio, perché è imponderabile, non c'è un risultato che sia scontato, dove anche oggi noi meritavamo, credo, ampiamente la vittoria. Siamo stati padroni del campo, abbiamo pagato carissimo prezzo un errore che si poteva evitare, fermare il gioco o fermare una ripartenza, che poi sull'1-0 magari la squadra voleva chiudere la partita. C'era magari un po' di euforia che non ci ha permesso di essere molto lucidi su quell'azione lì. In promozione, altra vittoria per il Casazza Virtus, che si impone per 2-0 su Treviglio. In prima categoria, al Sovere si sbarazza della nuova Valcavallina per 3-0, mentre il Piancamono si arrenda al Chiari per 4-2. In seconda, ritorno al successo per il Pianico, vincente di misura 1-0 sulla Nembrese. Vittoria esterna invece per l'Orseiseo, che manda al tappeto l'Oratorio San Michele per 2-1. Infine, sempre in seconda, il Bienno si prende al derby della Valle, battendo per 3-2 la nuova Camonia, mentre l'Edenesine va incontro alla sua prima sconfitta stagionale, finendo K.O. con un secco 5-2 contro il Gussago.